Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special. Allora, la Juventus vince ad Empoli, si porta a casa tre punti, ma non senza faticare. Bisogna dire che non è stata la partita che mi aspettavo per due motivi. Uno, vabbè, hanno fatti complimenti all'Empoli, soprattutto per il primo tempo esemplare, se l'è giocata alla grande, aiutata anche da una Juventus assente. E l'altro punto è appunto la Juventus. Juventus è scendendo in campo, secondo me, con la mentalità sbagliata, ovvero pensando di essere superiore, quindi di portarsi a casa alla vittoria in maniera semplice. E soprattutto, ragazzi, con dei uomini non all'altezza dei titolari. Cioè, tra Cancelo e De Sciglio, ragazzi, c'è una tale differenza, ma una tale differenza... Cioè, una fascia non utilizzata. Praticamente per tutto il tempo che c'è stato De Sciglio, quella fascia che attaccava, praticamente quella fascia è stata inutilizzata. Ci ha provato un po' Alessandro dall'altra parte, ma allo stesso Alessandro si è fatto un po' uccellare nell'azione del gol dell'Empoli. Acqua, grandioso, e poi Caputo, ragazzi, Caputo. Che contro il Frosinone doveva essere uno dei marcatori sicuri. Non segna, poi i fantallenatori magari contro la Juve, molti lo mettono in panchina, e lui purga tutti. C'è da dire, ragazzi, che gol ha fatto CR7? Un gol proprio alla Ronaldo. Il gol del 2-1 dopo il calcio di rigore, che per me è giusto, perché comunque Benacer fa un'ingenuità clamorosa. Non so come sarebbe andata la partita senza quel calcio di rigore e senza quella invenzione di Ronaldo. Fatto sta che, ragazzi, sono due episodi che decidono la partita. Ronaldo, ragazzi, un gol bellissimo. Infatti mi ha fatto un po' strano che i commendatori siano stati un po' sorpresi, perché lo sappiamo, Ronaldo ce li ha questi numeri. Quando tira da qualsiasi posizione può essere davvero pericoloso. Certo che vedere un gol del genere è bello, è bello vedere anche questi gol. Non che in passato non ce ne siano stati, però con Ronaldo forse potrebbero essere più frequenti, quindi davvero davvero un gol bellissimo. La cosa che mi fa arrabbiare è il non utilizzo di Douglas Costa. Cioè, un giocatore che ha un potenziale enorme, lo utilizziamo solo per pochissimi minuti e tra l'altro c'è stata anche un'occasione dove Ronaldo provava ad avanzare e poi si è messo con le mani ai fianchi perché non vede dei compagni a supporto. Questo significa anche una mentalità, secondo me, sbagliata. Cioè, il non voler attaccare, il voler proteggere il 2 a 1. Ma che proteggi il 2 a 1 che poi ti va a finire come bessa? Cioè, come una settimana fa? Cioè, trova piuttosto il 3 a 1, prova ad attaccare e chiudere la partita. Questo è il mio pensiero. Ditemi cosa ne pensate voi, ragazzi. Ovviamente, magari, il calciatore e soprattutto l'allenatore ne saprà di più di me. Però questo è il mio pensiero. Io sono più per chiudere la partita, anche sbilanciatoti leggermente, piuttosto che proteggere quelle 2 a 1. Ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Vi lasciate un bel like, se anche voi... Tra l'altro, ragazzi, vorrei dire, doppietta di Ronaldo, come da pronostico. Vi avevo detto che tra i big, Ronaldo era quello che probabilmente avrebbe portato una doppietta. Ve l'ho detto sia oggi nel video della Top 11. L'ho detto anche in televisione, ragazzi, quindi clamoroso. E lo avevo detto anche nei marcatori improbabili e sicuri. Tra l'altro ho beccato anche i gol di Palomino e Mancini, ragazzi. Palomino e Mancini. Roba da fantascienza oggi, ragazzi. Veramente sta giornata sto beccando di tutto e di più. Quindi ci vediamo con un prossimo video, ragazzi. Un bel like per i marcatori beccati, ragazzi. Alla prossima. Ciao.